Torniamo ai lavori che sono stati presentati nei giorni scorsi alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, i lavori che riguardano l'ampliamento e l'ammodernamento dell'autostrada A4 Milano-Torino all'altezza di Marcallo-Concasone. Il nostro inviato Marco De Luca ha intervistato l'assessore all'infrastruttura Lombardo, Maurizio Del Tenno, e il ministro competente, Maurizio Lupi. Assessore Del Tenno, Regione Lombardia davvero non si ferma, oggi si inaugura un'opera davvero importante. È importante soprattutto in vista Expo, perché è una delle autostrade più trafficate, che ci serviva ovviamente per collegare la parte piemontese con la Lombardia, l'Expo. Ma oggi si parla di altro, non è solo un ampliamento, un'infrastruttura importante per la viabilità, ma soprattutto per la sicurezza, la Quarta Corsia, la Corsia d'emergenza, le piazzole. Insomma, io credo che sia quello che l'Italia merita in questo momento e che serva ovviamente a tutti i cittadini, ma anche chi ovviamente utilizza queste strade per lavorare. Infrastrutture, trasporto, forse anche il volano per far ripartire l'economia? È indispensabile per far partire l'economia, le opere pubbliche sono sempre state il volano per far ripartire. Io credo che questo ultimo decreto del fare, che è stato ideato dal ministro Lupi, vada proprio in questo senso e siamo molto fiduciosi, insomma, che dia quella scossa alle nostre imprese, non solo grandi, ma anche piccole e medie che possono finalmente prendere questa nuova energia in questo decreto. Ministro, lavori che arrivano anche in Lombardia, che tempi si prevedono? Questa è un'altra opera fondamentale di collegamento con Malpensa. All'interno delle opere anche previste poi per Expo 2015, noi tutti abbiamo scommesso su questa manifestazione perché Expo 2015 non è solo l'interesse della regione Lombardia o delle regioni confinanti, ma è l'interesse generale del Paese, potrebbe essere in quel momento la vetrina con cui l'Italia torna ad essere protagonista in Europa e nel mondo e quindi tutto deve essere completato per quel momento. La preoccupano i ritardi proprio per Expo 2015? No, anzi, la nostra sfida come Governo e come Ministero delle Infrastrutture è proprio di ribaltare la concezione e dobbiamo dare certezza per non solo la cantierizzazione delle opere, ma anche la loro conclusione. Abbiamo fatto un decreto del fare che stabilisce e mette a disposizione risorse per le opere certe che devono essere avviate entro il 31 dicembre 2013. Avremo a fine settimana un incontro con il commissario Sala su Expo 2015 perché non ci si può permettere di arrivare in ritardo, anzi quella deve essere la grande occasione non solo di dotazione infrastrutturale della Lombardia, ma per tutta Italia.